e adesso ci occupiamo di Alice sì perché noi di Radio Monte Carlo con grande gioia siamo la radio ufficiale del tour italiano di Alice le Cirque World Top Performers ne abbiamo già parlato con l'ideatore ma adesso abbiamo loro i protagonisti allora diciamo che accogliamo con un grandissimo applauso idealmente Asia Trommler buonasera ciao buongiorno è stato tardi ieri c'è un po' così bene ben arrivata poi abbiamo Andrea Cerrato buongiorno a tutti complimenti per il costume di scena perché voi siete venuti preparati da spettacolo e lui è seminudo e che fisico va bene poi i nostri ascoltatori vedranno le foto e i video andranno a cercarsi il link esatto e poi Pippo Crotti buongiorno ciao a tutti buongiorno buongiorno e a me non dice niente che sono bello sono fisicato anche perché sei il gemello di Andrea c'è questo gioco siamo gemelli quindi adesso non potete fare lo spettacolo tipo Danny DeVito Arnold Schmezzanegra bravissima esatto per far capire chi ascoltarà certo che snocciolare ogni singolo dato del successo di questo spettacolo è incredibile numeri impressionanti siete reduci da molte tappe in Italia Brescia, Padova, Genova dove hanno detto meraviglia è andata benissimo è andata benissimo pubblico estasiato vero? sì 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 il pubblico soprattutto quello di Padova è stato da brivido letteralmente perché vedere un pubblico così grande che inizia a battere i piedi sul pavimento e si alza in piedi è qualcosa che ti rimane a detto lascia senza parole ma lascia stare che stasera siete a Milano esatto l'anno scorso non c'è delusi quindi speriamo quindi anche quest'anno mi raccomando i milanesi insomma debuttate stasera poi spettacoli fino al 26 dicembre e poi avremo modo di parlare anche di Trieste perché c'è il brindisi speciale del 31 insomma attendete tutte le persone che vorranno festeggiare l'arrivo del nuovo anno con voi Max sentiamo nello specifico di quello che fanno vuoi occuparti di Asia? vuoi chiederle di questo numero? va a mettere gli occhiali però è una cosa per volta attenzione ragazzi e allora noi abbiamo già parlato di questo spettacolo con ciò che era la parte organizzativa la grande macchina che si è messa in moto tu come vivi questa esperienza Asia invece? per me è una vera e propria emozione tutte le volte che salgo sul palco soprattutto perché siamo come lo dice il nome il world top performer e effettivamente gli artisti sono i migliori al mondo e quando ti ritrovi a essere sullo stesso palco con gente come Yves De Costo Anatole Isarieschi che sono veramente delle stade nel mondo del circo e noi che siamo giovani con Andrea beh giovani però anche tu hai esordito giovanissima lo sei ancora sei una bambina praticamente e fai questo numero sospesa a 9 metri d'altezza bendata bendata perché bendata? perché era troppo facile? no no assolutamente non c'entra niente questo numero è nato perché ho conosciuto una ragazza che purtroppo ha un problema agli occhi per il quale diventa la cieca oh mamma e lei da un paio d'anni voleva fare vessuti quando ci siamo conosciuti io l'ho portata a fare la sua prima lezione e vedere il suo sorriso e la sua emozione dopo la lezione mi ha scaldato davvero il cuore mi ha lasciata lì senza parole e ho detto io devo raccontarlo in qualche modo questa cosa e per me l'idea di farlo appunto da bendata è un omaggio a lei ed è un omaggio a tutti quelli che hanno dei problemi magari fisici per il quale tanta gente li respinge a fare delle attività mentre invece quando si vuole il nome stesso del pezzo è feel sentire perché non c'è bisogno di vedere per sentire senti noi stiamo per tornare alla musica la sensazione che hai provato? la sensazione, la musica l'abbiamo creata nuova, noi e da pelle d'oca per me perché è esattamente quello che io vorrei trasmettere al pubblico ora tocca ad Andrea Cerrato e ad Ippocrofti allora Andrea tu vestito così, svestito così svestito così cosa fai nello spettacolo? Qual è il tuo ruolo? allora io nello spettacolo rappresento quello che è la passione e l'amore mi esibirò con un cerchio che nel gergo circense viene chiamato Ruotasir e per intenderci, per far capire che cos'è immaginatevi l'uomo vitruviano di Leonardo di Leonardo quindi questo anello molto grande dove io farò delle evoluzioni all'interno e quindi il numero consiste proprio in questo passo a due tra me e la ruota nel rappresentare appunto quello che è la passione e l'amore perché tu sei un ballerino insomma sei stato selezionato tra 52 per fare questo numero quindi insomma gli altri sono ancora vivi sì, sì, sì con buona salute invece così occhio e croce Pippo guardandoti secondo me con te ci si diverte molto beh io sono la parte comica dello spettacolo sono il gemello di Andrea che potrete vedere già da stasera gemello diverso e faccio questo numero dove cercherò di cantare una canzone d'amore e durante questa canzone d'amore ne succedono di tutti i colori quindi non posso spoilerare troppo però ne succederanno di tutti i colori e ci dicono qualcosa di inimmaginabile quindi l'aspettativa è incredibile è cresciuta stavo pensando Andrea che dopo averti visto a torso nudo ho preso la decisione di tornare a bere di mattina per dimenticare questa visione perché non è possibile c'è anche un record del mondo sì sì esatto pochi giorni fa sono riuscito a battere un Guinness World Record detenuto da un cinese oh forza Italia allora esatto che appunto nel mondo circense la Cina è sempre stata quella con i primati più forti quindi una grande soddisfazione per me complimenti complimenti davvero anche perché c'è tutto un allenamento tutto un lavoro immagino incredibile alle spalle di un po' di ciò che si rappresenta in scena eh sì l'allenamento è molto intenso 6 ore al giorno non dovevo venire oggi siete i migliori al mondo e quindi dietro ci sono tanti sacrifici tantissima abnegazione segnatela questa parola anche questo mi devo segnare stamattina allora grazie per averci raccontato Alice da questa sera a Milano al Teatro della Luna andate ad applaudire questi ragazzi straordinari l'eccellenza italiana ed internazionale che arriva nel nostro paese e poi un occhio speciale all'appuntamento del 31 perché brinderete a Trieste con le persone ci sarà anche il DJ set di Radio Monte Carlo alla grandissima e poi ci si prepara al tour europeo naturalmente nel prossimo anno partendo dalla Svizzera grazie ragazzi grazie a voi grazie a Trommler Pippo Crotti e Andrea Cerrato viva Alice ciao ragazzi ciao 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 a tutti